Che devo dire? Io non faccio altro che pensare a lui che per 30 anni mi ha ingombrato la casa e che mi ha dato... ma che mi ha dato se questo non mi ha dato proprio niente? Non era buono nemmeno a fare quelle cose lì a scopare e diciamocelo, non che io fossi questa grande tipa da letto ma lui era un freezer, era algido e così ecco, questa è la nostra vita e ci sono le vacanze da dimenticare ci sono le domeniche da dimenticare, gli eventi mai esistiti da dimenticare perché il nostro è stato solo uno scorrere monocorde del tempo all'insegna della noia che faceva da padrona e che dire, noi non abbiamo nemmeno una canzone che segni il nostro amore una canzone, vabbè, a dirla tutta ce n'era una che mi aveva anche rotto le scatole e la sentivo sistematicamente quando giocava all'Italia L'inno di Mameli, quello non mancava mai perché lui si doveva vedere seduto lì tutte le partite in soggiorno e io dovevo subire e non abbiamo nemmeno delle foto ricordo vabbè, c'è questa dove potete ammirare tutta la sua grande bellezza e il suo splendore risale al matrimonio, quindi sono secoli ormai ma le foto ricordo non ce l'abbiamo non per altri corpi se non la mia, io non amavo farmi fotografare però neanche lui, eh! non mi ha mai vista questa grande bellezza se non ha mai detto amore ti faccio una foto, non sei mai azzardato però una cosa ricordo molto bene gli piaceva fare le puzzette e poi negava e diceva che io mi ero inventata tutto e così ero costretta ad andare ad aprire la finestra per far uscire quella puzza nasi abbonda e intanto tra me mi dicevo ma quest'uomo è proprio tutto quanto pirla non è corregibile e così il pirla se n'è andato e io sono libera ho campo libero sì, io dovrei essere felice contenta perché non avrò più la casa infestata dalle puzze perché non ce l'avrò più tra i piedi adesso se le becca la tipa belleggiava nelle puzzette eh, Renatino eppure io io non faccio che pensare a Renato e mi dico lui se n'è andato via ma perché se n'è andato? magari questa coppietta si diverte in questo squallido modo con le puzzette non credo proprio magari con lei lui sarà facendo tutto quello che non ha fatto con me ma si mentirebbe perché prima o poi lei se ne accorgerà e lui resterà sempre quello che è un omuncolo da puzzette e voglio proprio vedere la faccia della signorina giovane quando glielo dirà ma che cazzo dico? se io a quei due non li vedo che fanno che è stupida io non sto insieme a loro mi azzardo a dire certe cose beh, comunque la vorrei proprio vedere questa nuova coppietta perché poi Renato dovrà affrontare una prova difficile e lo voglio vedere poverino disperato con i rimorsi di coscienza perché lei gli chiederà di fare l'amore e lui ma mi sa niente sesso, niente vacanze niente sorrisini, niente di niente solo silenzi indescrivibili ma perché Renato mi ha lasciata ed è scappato di casa forse lui l'ha stregata o sarà stata lei a stregare lui? ah beh, io so soltanto una cosa che ci vuole un bel coraggio a rubare un uomo brutto e goffo con problemi di prostata e di memoria che tra l'altro è sposato e al quale ero io felicemente sposata felicemente? ma che cavolo sto dicendo? vabbè, comunque era mio marito e io ero sposata e ora mi ritrovo a 50 anni che sono abbandonata da questo uomo di merda senza altene parte e non so se mi rifarò una vita io vorrei vedere che stanno facendo quei due magari staranno ridendo di me perché sono destrunti o magari staranno scopando vabbè, una puttana io sono disperata sono disperata è inutile che voglio nascondere sotto questo self-control falso questo sorriso quella che è la mia vera emozione sono disperata e so soltanto una cosa che Renato se n'è andato se n'è ito è finita non capisco perché io sono ancora innamorata di qualcosa non so come chiamarlo finita se sento se sento cos'è? ringraziamo Candela Gabrielli vi lasciamo grazie mentre smontiamo tutto ah funziona mentre mettiamo a posto vi lasciamo una performance di Marco che